ragazzo eh si parliamo con qualcuno qua di 27 è arrivato uno adesso per gamba con cui si trovi bene e abbia connessione mentale bene ti do questo messaggio speriamo che questo messaggio cambia da tu e adesso con l'ultimo arrivato grazie benissimo stiamo andando alla grande andiamo alla grande perfetto fra pochi minuti arriva l'antipasto ciao prego ciao